Tifosi di calcio e appassionati del calcio giovanile toscano buonasera buonasera da Gabriele Calderon e benvenuti alla vetrina dei dilettanti le immagini vi giungono dallo stadio comunale Libero Masini di Santa Croce sull'Arno dove si sfidano Cuoio Pelli e San Minato Basso gara valevore per la Coppa Italia del campionato eccellenza immagini riprese e montate dal nostro Fabrizio Giannoni in collaborazione con Teleregione Toscana canale 86 del digitale terrestre Cuoio Pelli Grasso, Rossi, Battistoni, Mancini, Raffelli Francesconi, Nicolai, Paolicchi Raffi, Mengali e Montaguti ovviamente Cuoio Pelli in maglia nera in panchina gli ordini di Mister Cipolli ci sono Morini, Benelli, Botrini De Luca, Donati, Gambini, Landi, Morelli e Martinelli risponde il San Minato Basso in maglia bianca Pinelli, Pellegri, Faraoni Bozzi, Marianelli, Larosa, Sanchez Marinari, Pellegrini, Bencini e Lelli in panchina gli ordini di Mister Venturini Battini, Onnis, Pellegrini, Freschi, Falaschi Bini e Bottazzo arbitra l'incontro il signor Labruna della sezione di Ponte d'Era codivato dagli assistenti arbitrali Chiesi e Misson della sezione di Prato Veniamo dunque in cronaca in questo momento con il Cuoio Pelli che deve battere una rimessa laterale con il numero 2 Rossi viene giocata di nuovo però perde palla e quindi sarà rimessa laterale in favore del San Minato che attacca dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi mentre il Cuoio Pelli in maglia nera dalla destra alla sinistra si sa che le prime partite di campionato e in questo caso di Coppa Italia possono essere condizionate dalle temperature, dalla preparazione da quelle che sono le classiche gambe imballate manovra allora il San Minato sulla parte sinistra del campo con un passaggio adesso all'indietro si ricomincia dalla difesa dove c'è il numero 5 Marianelli adesso la Rosa prova a impostare lui l'azione lancio lungo a cercare le punte Pellegrini e Bencini la palla schizza e allora Grasso il portiere classe 99 può tranquillamente rimettere in gioco Battistoni viene avanti adesso il Cuoio Pelli palla giocata sulla fascia ma termina in rimessa laterale come vedete appunto come dicevamo il caldo condiziona le prime giocate il ritmo molto basso e punteggio chiaramente inchiodato sullo 0-0 vi ricordo la vetrina dei dilettanti Teleregione Toscana canale 86 digitale terrestre con le partite dei dilettanti della nostra regione dei nostri campionati le riprese e il montaggio sono a cura di Fabrizio Giannoni ancora sanminiato dunque in possesso di palla con il portiere Pinelli classe 98 palla giocata bassa impostata da Marianelli adesso lancio lungo col mancino sull'out di destra libera adesso però il Cuoio Pelli che prova a portarsi nuovamente in avanti difende palla il numero 10 Mengali la palla schizza fuori sarà rimessa laterale in favore di Pellegri ancora Pellegri in possesso palla lancio lungo col sinistro azione molto tambureggiante quella del Salminiato buono Pellegrini per Bencini Bencini controlla e torna indietro dove c'è Bencini lancio lungo a cercare ancora Pellegrini la palla però va sul fondo e sarà rimessa per Grasso da effettuare chiaramente da dentro l'area piccola ricordiamo che le immagini vi giungono dallo stadio Masini di Santa Croce sull'Arno ecco il lancio lungo di Grasso duella aereo a centro campo alla meglio il Salminiato che prova a venire ancora in avanti con Pellegrini c'è un fallo calcio di punizione comandato dal signore Labruna della sezione di Pontedera per il Salminiato che può sfruttare dunque questa prima punizione se ne incarica il numero 10 Bencini che posiziona la palla ed andrà con il suo mancino 30 i metri dalla porta chiama lo schema probabilmente Bencini sistema la barrera Labruna tutto pronto per la battuta si può battere ecco il fischio e allora va Bencini col sinistro Palladenta attenzione però c'è Grasso attento la palla era schizzata velenosamente a centro aria poteva succedere di tutto si sa che nel calcio soprattutto direttantistico circa l'80% dei gol deriva da calcio piazzato e da palla inattiva e questo è uno dei casi lancio lungo adesso di Grasso prova nuovamente Cuoio Pelli a riversarsi in avanti ma fa buona guardia Pellegri e poi di nuovo palla a Pinelli che rischia qualcosa sulla pressione di Raffi lancio lungo del San Miniato col Mancino è sempre il numero 6 la rosa in posta dell'azione posizione di fuorigioco però di Pellegrini e dunque si ripartirà con un calcio di punizione indiretto a favore del Cuoio Pelli sarà Mancini a incaricarsi della battuta il capitano giocata corta per Nicolai che prova a venire in avanti bella la palla si lotta lì sulla tre quarti il numero 9 Raffi sappiamo che fa della della garra come si dice in spagnolo una delle sue caratteristiche lanci in avanti ancora però un fischio del signor Labruna quindi gioco fermo in questo caso ed è calcio di punizione a favore del Cuoio Pelli già battuto sotto il centrocampo ancora il capitano viene avanti con la manovra si va da sinistra al centro dal centro a sinistra dove c'è il numero 3 Battistoni che però non riesce a mantenere il pallone in campo e si riparte con una rimessa laterale per il San Minato gioco molto spezzato in queste fasi di avvio Bencini palla girata dietro per Bozzi molto bella adesso la manovra del San Minato Bozzi può impostare dal cerchio di centrocampo si va sulla corsia di destra ancora una volta palla a Lelli ecco il lancio di Lelli in avanti a cercare Sanchez che mette giù bene libera però il Cuoio Pelli molto attento in fase di non possesso la formazione di Mister Cipolli adesso viene avanti Mengali attenzione a lui Mengali sul lato di sinistra prova con il destro a cambiare gioco mette giù come può e palla giocata poi dentro qualche duello e fisca ancora la Bruna si erano agganciati il numero 7 Nicolai che ha commesso fallo in attacco quindi la ripresa di gioco sarà affidata ai piedi di Pinelli Faraoni viene avanti ancora una volta Faraoni palla giocata a centrocampo un rimpallo favorisce la manovra e allora Bencini che spazia da destra a sinistra prova a cercare Sanchez Sanchez prova a saltare ecco il cross al centro la palla però termina sul fondo c'era Lelli in agguato Rossi forse è stato un po' scarico lì su Sanchez non ha tentato l'intervento ha aspettato per giocare poi eventualmente portando il giocatore sull'esterno Sanchez però molto bravo classe 98 giocatore molto veloce e tecnico a crossare poi al centro rimessa da fondo dunque affidata al classe 99 Grasso ricordiamo che la gara è valevole per la Coppa Italia del campionato eccellenza e le immagini vi giungono da Santa Croce sull'Arno dove il cuoio Pelli gioca in casa in maglia nera azione liberata sul pressing di Mengali da parte del numero 6 la Rosa rimessa laterale dunque per i casaccati in nero va alla battuta Battistoni si cerca ancora Raffi poi ancora Battistoni può mettere al centro c'è un contrasto la palla termina sul fondo e sarà rimessa da parte di Pinelli ha fatto buona guardia il numero 4 Bozzi che si è ben difeso dalla pressione di Battistoni lì sull'out con calma la rimessa di Pinelli che adesso va a lancio lungo con il destro a cercare sempre lo stacco di Pellegrini c'è un fallo però comandato da Labruna un po' di dubbi tra i due numero 8 Marinari e Paolicchi era molto vicino però il signor Labruna di Ponte d'Era ricordiamo che è coaduato dai due assistenti arbitrali il signor Chiesi e il signor Misson alla battuta Marianelli gioca corto per cercare la manovra stretta e vicina il San Mignato Bozzi da quest'altra parte c'è Pellegri Pellegri gioca in avanti a cercare il numero 11 Lelli poi si torna indietro dove c'è la rosa lancia lungo sotto la pressione del Coyopelli la palla termina sull'out di destra e sarà rimessa laterale per Rossi che con le mani potrà rimettere in gioco la sfera ancora rimessa se si fosse giocata a football americano si direbbe che ha guadagnato una yard Rossi ecco il lancio al volo di Francesconi fa buona guardia Lelli però ancora l'azione del Coyopelli è insistente viene avanti sulla sinistra come al solito Battistoni che farà un solco su quella fascia di qui a fine partita cross con il destro non è il suo piede si vede la palla termina sul fondo però eccolo inquadrato Battistoni giocatore che comunque già in queste fasi ha fatto vedere la gamba giocatore che fa tutta la fascia Mancina con il numero 3 sulle spalle sarà dunque Pinelli a rimettere la sfera in gioco 0-0 il risultato tra Coyopelli e San Miniato sentiamo in sottofondo anche le voci dei due allenatori Cipolli per Coyopelli Venturini per il San Miniato duella aereo centrocampo sempre un batte arrivate continuo fa buona guardia adesso però Mancini che libera l'azione bellissima la palla di Mengali in profondità dove c'è Nicolai può andare Coyopelli Nicolai si torna indietro dal numero 6 Francesconi dentro ancora per Mengali bellissimo lo stop Mengali può saltare ma è buono il contrasto da parte di Pellegri si torna indietro da Battistoni Battistoni può andare al cross è fintato si va sul sinistro Battistoni ancora sul fondo respinto calcio d'angolo è stato bravo Pellegri prima su Mengali poi su Battistoni a non farsi superare in queste due circostanze sarà dunque rimessa da fondo in favore dei locali del Coyopelli eccolo qua palla giocata corta ma ne esce molto bene il San Miniato palla al piede cerca di non buttare via il pallone se possibile poi ovviamente sulla pressione costretta al rilancio e la palla termina fuori dalla linea laterale e sarà ancora una volta Battistoni con le mani a rimettere in gioco c'è un contatto calcio di punizione bagnato da Raffi che con la sua fisicità ha difeso molto bene la sfera battuta affidata ai sapienti piedi di Nicolai il signor Labruna cerca di far rispettare la distanza arriva il fischio Nicolai sceglie ancora Battistoni corto Battistoni potrebbe andare al traversone se l'allunga stavolta il campo finisce e allora sarà rimessa per Pinelli inquadrato Battistoni rammaricato per la possibile occasione non concretizzata si è fatto tradire forse anche da una zolla del terreno di gioco del Masini un gioco comunque molto spezzettato ritmi bassi queste partite solitamente si ha più paura di perderle che di vincerle perlomeno nelle prime battute di gara così è in questo momento lancio lungo allora di Pinelli ancora una volta per innescare la manovra offensiva del San Minato altro contatto altro fischio stavolta c'è giù Nicolai si tocca al volto subito un colpo fortuito il gioco è fermo batte il capitano Mancini prova col destro a cercare ancora una volta la manovra palla dentro per Raffi però l'1-2 con Mengali non è riuscito ne può uscire il San Minato però la palla è uscita quindi sarà rimessa laterale in favore del Cuoio Pelli che non è riuscito a proseguire nell'azione vedete inquadrato l'assistente arbitrale Misson Rossi alla battuta c'è Montaguti lì vicino Montaguti col sinistro torna indietro da Rossi fa buona guardia però il numero 3 Faraoni che mette fuori Cuoio Pelli forse per le prime volte cerca di sfondare la linea difensiva del San Minato dalla parte destra del campo Rossi alla battuta c'è Montaguti lì vicino sceglie la battuta lunga il numero 2 ben difesa la palla al centro da Mengali il cross e la palla termina sul fondo deviata ci sarà calcio d'angolo per il Cuoio Pelli sagono le torri ovviamente Raffelli Francesconi al centro c'è anche Mengali sale anche Rossi e Capitan Mancini della battuta si incarica il numero 11 col Mancino Montaguti chiede chiede di rispettare i blocchi il signor Labruna nel mirino Rossi e Sanchez ecco il traversone il salminato però libero brutto il cross sul primo palo nessuno ha potuto intervenire attenzione adesso però a contropiede che c'è che concretizzarsi ma è molto bravo Francesconi a non farsi tradire dalla posizione sbagliano il passaggio quelli del salminato ma insomma Francesconi è stato molto lucido a recuperare la sfera poi palla che giunge tra i piedi di Pinelli che con calma cerca un varco per rimetterla in gioco oppure giocare lungo vedremo la sua scelta tra pochi istanti ricordiamo chiaramente le immagini sono riprese da Fabrizio Giannoni così come il montaggio collaborazione con Teleregione Toscana canale 86 del digitale terrestre teleregionetoscana.tv sul sito per vedere anche lo streaming rimanere aggiornati sulle trasmissioni rimensa laterale in favore di Rossi del cuoio pelli quest'oggi in casacca nera giocata vicino per Francesconi che va immediatamente al rilancio cerca in qualche modo di mettere giù il numero 9 il bomber Raffi azione adesso combattuta a centrocampo prova a uscire nel salminato c'è un contatto lascia giocare il signor Lavruna quindi il salminato può venire in avanti con il numero 10 Bencini Francesconi prova a fermarlo Bencini ancora il cross al centro non può arrivare nessuno cross sbilenco allora il buon Battistoni può rimettere in moto la manovra del cuoio pelli che agisce sulla sinistra e può andare dunque al rilancio per la manovra del cuoio pelli ecco il lancio con il destro ancora però una volta fa buona guardia la difesa del salminato che può reimpostare la manovra adesso Sanchez prova a girare sulla destra dove c'è Lelli che prova ad avanzare Lelli punta il capitano Mancini ecco dall'altra parte Bencini che può andare fino in fondo Bencini può andare a cross attenzione e c'è il vantaggio del salminato Bencini un cross velenosissimo di Bencini e il salminato passa dunque in vantaggio a Santa Croce sull'Arno cuoio pelli 0-0 Sanminato 1-0 il gol firmato da Bencini non può niente Granzo può solo osservare il pallone rotolare in fondo a sacco come avete visto anche nel replay di Fabrizio Giannoni un cross sbilenco che poi è diventato un tiro velenosissimo si complimenta Sanchez con Bencini l'azione è stata comunque di buona fattura quella del salminato dunque vantaggio gol di Bencini e si riparte dallo 0-1 un po' di sconforto in tribuna e adesso cuoio pelli dunque costretto ad inseguire e cercare di abbrancare un pareggio che significerebbe sempre e comunque oro vista l'importanza della competizione rimessa laterale in favore del salminato l'ultimo tocco è stato il numero 11 in Montaguti le emozioni della vetrina dei dilettanti qui su teleregione toscana può succedere di tutto in ogni momento lo sappiamo nel calcio e questo non è una novità Montaguti allora in posta sopalla si prova a cercare la manovra ma adesso Pellegrini fa un ottimo pressing e poi Faraoni conclude in rimessa laterale Rossi alla battuta bisogna cercare di trovare spazi la manovra comunque del cuoio pelli se non sulle discese di Battistone è sembrata abbastanza sterile fino a questo momento vedremo se adesso ci sarà la reazione dei ragazzi di Mr. Cipolli ci provano adesso con Rossi ecco il cross liberato dal numero 5 Marianelli perfezionato dal Faraoni poi Sanchez c'è un contatto caccia di punizione incodrato il numero 10 Mengali chiaramente il numero 10 ha la responsabilità di illuminare le manovre offensive in questo caso del cuoio pelli rimessa lunga di Pinelli duello aereo tra Rossi e Sanchez alla meglio Rossi poi ultimo tocco è di Marinari quindi rimessa in gioco a favore del Sanminiato ancora una volta con Rossi rimessa lunga a cercare Raffi sponda e poi cross a cercare sempre Mengali però la difesa del Sanminiato adesso anche forte del vantaggio è attenta si lotta su ogni pallone era Nicolai che ha tentato questo intervento in scivolata ma Pinelli con tutta la tranquillità del mondo rimette in gioco con le mani scambio tra Bozze e Faraoni quest'ultimo per la Rosa ancora una volta Marianelli Faraoni in verticale si sposta la manovra dove c'è Bencini che obiettivamente non dà mai punti di riferimento il suo gol è arrivato dalla zona destra del campo poi agisce dalla sinistra e lui diciamo quello chiamato a scardinare la difesa da parte di Mister Venturini ma torniamo in cronaca con il Coglio Pelli duello tutto fisico tra Raffi e Marianelli l'assistente arbitrale signor Misson segnala il fallo in attacco e dunque calcio di punizione comandato dal signor Labruna a favore degli ospiti del San Miniato in vantaggio per una rete a zero rete siglata da Bencini numero 10 una buona azione offensiva terminata poi con un cross sbagliato che si è trasformato in un tiro velenosissimo su cui Grasso non ha potuto niente inserita ancora Sanchez che cerca di sfondare il muro eretto da Rossi che si rifugia in rimessa laterale dunque ancora a favore del San Miniato va con le mani numero 3 Faraoni ancora una volta per Bencini bella la palla per Faraoni Faraoni può andare al cross col sinistro respinto da Paulicchi sarà rimessa laterale ancora per il San Miniato ancora Bencini sempre lui nelle manovre del San Miniato Bencini sinistro poi cross col destro deviazione a centro aria poi libera senza problemi Coevelli era stato Pellegrini a cercare l'intervento si prova a ripartire con Montaguti adesso lancio lungo per Mengali c'è fallo su di lui caccio di punizione battuto immediatamente da parte di Coevelli per cercare la sorpresa attenzione la palla schizza quindi Mengali può alimentare l'azione Mengali sulla sinistra può crossare eccolo basso il tiro di Nicolai poteva fare sicuramente meglio da quella posizione con il destro mani nei capelli per lui e si dispera e ne ha tutte le ragioni del mondo era buona la palla di Mengali servita dopo un pregevole stop controllo e classico destro a giro a cercare il secondo palo la palla però si è alzata di gran lunga corpo all'indietro baricentro che non ha aiutato e quindi palla che si è persa lontana dalla porta difesa dal classe 98 Pinelli che adesso va al rilancio rimessa laterale ancora per i biancorossi locali oggi in maglia nera ovvero il cuoio pelli con rossi lì vicino c'è Nicolai ma si cerca la battuta lunga due l'aero e si c'è fallo di Raffi ha spinto con l'avambraccio sulla schiena e quindi calcio di punizione battuto con tutta la calma olimpica da Marianelli numero 5 della formazione ospite ecco la rosa che va al lancio lungo schizza in avanti pericolosa poi Samminiato ricomincia tutto da Capitan Mancini ancora una volta Battistoni palla giocata in verticale batti e ribatti alla fine la palla viene tenuta in campo da Bozzi prosegue la manovra qualche dubbio sul contatto poi fallo su Pellegrini da Mengali fallo da Tergo come si dice in gergo caccia posizione evidente forse la palla è riuscita all'altezza della linea mediana del campo non l'ha giudicata così il signor Labruna e il signor Chiesi di Prato sulla fascia di competenza battuto la rosa subito a cercare Bencini ancora lui l'autore del gol Bencini sul plus torna indietro da Pellegrini si ricomincia da dietro dalla rosa c'è comunque la pressione di Raffi che si lamenta per la trattenuta di esperienza di Marianelli non è di questo avviso il signor Labruna e quindi si può giocare Marinari Faraoni ancora una volta per Lelli lancio di Lelli deve arretrare la sua posizione Bencini per prendere possesso del pallone Bencini prova ancora ad avanzare Pellegri Pellegri può andare dentro bello lo scambio a centro attenzione ancora alla manovra del Samminiato non c'è spazio allora si riparte ancora da Lelli che cambia versante stavolta c'è Faraoni in possesso palla Faraoni può andare col cross eccolo al centro libera bene Capitan Mancini la palla si spenge sul fondo sarà calcio d'angolo è stato molto bravo Mancini qui a spizzare lungo per evitare l'intervento di Pellegrini Carolina Agguato pronto come una faina a mettere in difficoltà Grasso un inquadratura un attimino più larga fa apprezzare anche la buona connice di pubblico adesso attenzione ancora una volta al cross di Lelli sul secondo pallo la palla è lunga colpo di testa può bloccare Grasso colpo di testa se non ho visto male di Sanchez può far ripartire la manovra chiede calma ai suoi Battistoni lancio lunghissimo a cercare ancora Mengali e e Raffi i due del tandem offensivo niente da fare però e si riparte ancora una volta con Faraoni che è cresciuto nella sua prova Rossi e Sanchez duello visto e rivisto ancora Lelli ancora una volta Faraoni lo insegue Rossi che interviene fallo ruvido cartellino giallo inevitabile per lui se no la Bruna non ha esitato cartellino giallo per Rossi che è stato molto imprudente comunque nell'azione era in ritardo poteva risparmiarsi l'intervento ma si sa nella fuga del momento talvolta non si riesce a ragionare con il massimo dell'acidità e quindi arriva il provvedimento disciplinare Lelli Pellegri palla in verticale dove c'è Pellegrini Pellegrini prova a girarsi cerca spazio Mancini fa buona guardia poi Lelli calcia la palla termina sul fondo tiro deviato calcio d'angolo ancora una volta per il Samminiato che è in vantaggio per una rete a zero rete siglata da Bencini numero 10 di mister Venturini ricordiamo anche le panchine diamoci uno sguardo per mister Cipolli ovvero Coyopelli c'è Morini Benelli Bottrini De Luca Donati Gambini Landi Morelli Martinelli mentre per il Samminiato Battini Onnis Pellegrini Freschi Falaschi Bini Bottazzo attenzione adesso a questa conclusione Grasso molto attento a tenerla lì in due tempi a rilanciare subito per cercare di trovare spazio c'è Mengali due all'aereo la palla la palla passa ma è bravissimo Pellegrini a rinvenire e poi Paolichi prova a sfondare in qualche modo adesso Montaguti prova a cercare ancora una volta Mengali 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 dentro l'aereo Mengali prova con sinistro e la palla non va distante dal palo molto bravo qui Paolichi prima Montaguti poi e Mengali a chiudere questa azione col sinistro sfortunato non è riuscito a trovare il palo lungo la palla è terminata sul fondo difeso da Pinelli un brivido comunque è sceso sulla schiena del Samminiato si sa che Mengali comunque è un giocatore di assoluta tecnica in ogni momento può tirar fuori come si dice il coniglio tirar fuori il coniglio dal cilindro ancora un fallo comandato dal signor Labruna è una gara comunque che ha preso vivacità rispetto ai primi istanti della partita dove il gioco era molto ma molto spezzettato adesso gioca un po' più fluido sempre Marianelli vicino lì c'è Rafi per cercare di disturbare la manovra Lelli adesso si torna indietro ancora una volta da Marianelli lancio lungo a cercare Sanchez che mette giù come può ci riesce molto bene punta Rossi Sanchez ancora prova a passare Rossi lo mantiene è già munito attenzione Sanchez va là dentro conclusione e c'è un fallo in attacco Sanchez è molto frizzante lì sulla sinistra mette in difficoltà Rossi poi l'azione è stata ben tenuta di posizione dai difensori del cuoio Pelli adesso punizione affidata ai piedi di grasso incolpevole sul gol beffato davvero da quel cross di Mencini che si è insaccato sul secondo palo dove non ha potuto far altro che raccoglierla dal fondo del sacco duello aereo e c'è calcio di punizione fallo commesso da Pellegri su Mengali Pellegri che ritarda un attimo la ripresa di gioco sapientemente Nicolai poi mette in gioco per Francesconi che tenta il tiro da distanza del siderale però un tiro molto insidioso che sbatte sul palo qui Pinelli non molto reattivo il tiro sembrava di facile lettura rimbalzato davanti a Pinelli ha messo in difficoltà adesso come vedete l'azione è ripresa quindi cartellino giallo cartellino giallo dunque per Battistoni è sfortunato comunque Francesconi nella situazione che aveva preso coraggio e d'altronde se non calci non puoi cercare di trovare il pareggio Pinelli forse coperto dal cono di tiro dai propri difensori non ha visto la palla partire e quindi si è trovato all'ultimo a tentare il tuffo il palo lo ha graziato davvero un rischio calcio di posizione dunque per Rizzamminiato che dai 28 metri circa può cercare di mettere in difficoltà ancora una volta Grasso Bencini sulla battuta va invece Pellegrini la palla si perde altissima sopra la traversa l'arbitro pone fine all'ostilità per questo primo tempo punteggio di 1-0 a favore del San Mignato allora piccolo break per noi qui da Santa Croce sull'Arno per Cuoio Pelli San Mignato la vetrina dei dilettanti non cambiate canale non cambiate l'86 quello di Teleregione Toscana rimanete con noi torniamo subito ed eccoci tornati con le immagini di Fabrizio Giannoni telecronica di Gabriele Calderon dallo stadio comunale Libero Masini di Santa Croce sull'Arno gara valevole per la Coppa Italia del campionato eccellenza tra Cuoio Pelli e San Minato Basso tutto è pronto dunque per la battuta del secondo tempo ricordiamo il risultato San Minato in vantaggio per una rete a zero rete segnata da chi sta battendo il caccio inizio ovvero Bencini San Minato che attaccherà dalla destra alla sinistra del vostro teleschermo mentre Cuoio Pelli dalla sinistra alla destra in casacca nera immagini che vi giungono dallo stadio comunale Libero Masini di Santa Croce sull'Arno la partita è Cuoio Pelli San Minato Basso gara valevole per la Coppa Italia del campionato eccellenza attualmente San Minato ha in vantaggio per una rete a zero sui padroni di casa Battistoni prova subito il rilancio Cuoio Pelli che deve cercare di trovare il pareggio San Minato ovviamente che deve cercare di difendersi abbiamo visto qualche sortita offensiva del Cuoio Pelli soprattutto con Mengali più positivo dei suoi sicuramente nella prima frazione insieme a Battistoni che ha ben impressionato nonostante il cartellino rimediato buona adesso la manovra di Rossi Francesconi mette ordine ed ecco qua proprio Battistoni uno dei migliori sicuramente della prima frazione di gioco viene avanti ancora una volta Cuoio Pelli buona la palla di Montaguti però il San Minato ne esce con lucidità fallo di Francesconi abbastanza evidenti la Bruna sceglie di guardarlo male ma di non prendere il provvedimento disciplinare il fallo lo ha subito Marinari il capitano del San Minato e batte il solito Marianelli è lui che batte solitamente le punizioni in quella zona del campo è la sua zona di competenza Bozzi adesso sulla fascia destra si prova a tornare da Lelli e lui cerca di mettere in ordine molto elegante il passaggio per Marinari si cambia Corzia dove c'è Faraoni Faraoni con sinistro a cercare ancora una volta Bencini Bencini converge al centro e poi torna indietro da Marinari Marinari lancia lungo a cercare Pellegrini ecco lo scambio Sanchez Sanchez può andare col destro torna sul sinistro alla fine vuol far troppo e rischia di perdere palla così è e riparte allora la manovra del Cuoio Pelli ottima la chiusura il numero 7 Nicolai lancia lungo adesso per Mengali che mette giù fa ordine difende questo pallone ogni pallone oro fallo San Minato allontana il pallone però fallo è evidente sulla difesa palla di Mengali battuto subito da Nicolai ancora una volta per Battistoni passaggio però in verticale sbagliato e allora può ripartire il San Minato con Pellegrini Pellegrini da centrocambo subito per Sanchez sulla sinistra può andare verso centro per cercare il tiro Sanchez doppio passo e poi cerca ancora Pellegrini posizione giudicata regolare ancora Pellegrini sulla sinistra si torna indietro da Capitan Marinari Marinari adesso non c'è spazio deve ricominciare la manovra lo fa dal numero 5 Marianelli che torna addirittura indietro da Pinelli che con il destro sceglie di rilanciare a lungo Rossi fa buona guardia bello lo stop mette giù e si riparte ancora una volta con Capitan Mancini che col sinistro allarga dove c'è Battistoni sulla verticale c'è sempre Montaguti ecco Raffi Nicolai Battistoni e Montaguti Montaguti con il destro potrebbe andare a cross eccolo che arriva al centro Mengali la difende ma non riesce a sfondare il muro eretto dai casaccati in bianco quelli del San Minato difende palla Faraoni e poi la palla termina sul posto scusate era Marinari eccolo qua invece Faraoni in possesso palla in questo momento classe 99 Faraoni primo tempo attento il suo pala che ancora va fuori rimessa laterale in favore del San Minato che attacca dalla destra alla sinistra del vostro teleschermo in vantaggio per una reta 0 gol siglato da Bencini numero 10 Sanchez 1-2 Sanchez è molto veloce però Raffaelli è in vantaggio sceglie di retrocedere per Grasso lancio lungo solito flipper alla fine Francesconi tenta lancio lunghissimo Paolicchi insegue perfeziona Pellegri ma è rimessa laterale per i neri locali con Battistoni c'è lì vicino Nicolai eccolo servito si torna indietro ancora però Nicolai in possesso palla c'è lì vicino Francesconi si sceglie invece di saltare un passaggio e di venire per Raffaelli difende palla e però poi la perde il numero 11 Montaguti e fallaccio qui proprio di Montaguti ai danni del numero 3 Faraoni ci poteva sdare il giallo non è di questo avviso il signor Labruna della sezione di Ponte d'Era si riparte allora dalla difesa ancora con Mancini possesso palla del capitano dei locali fascia sinistra ancora una volta dove c'è Montaguti aspetta la sovrapposizione di Battistoni che arriva puntuale si sovrappone ancora una volta a Montaguti Battistoni sceglie ad andare da solo ne salta uno però c'è fallo proteste Labruna dice sono vicino ho visto io Battistoni si prende molto volentieri questo calcio di punizione nel tentare di scartare due uomini aveva forse perso il controllo della sfera però con tanta esperienza si è guadagnato un calcio di punizione che da quelle posizioni sono sempre comunque pericolosi se ne incarica dalla battuta Nicolai sistema la distanza il signor Labruna di Fontedera ultime raccomandazioni Pinelli fa spostare Pellegri ecco la battuta di Nicolai al centro attenzione clamoroso clamoroso il pareggio del cuoio Pelli ma di importanza vitale è un autorete di Pinelli il cross è velenoso di Nicolai Pinelli qui sicuramente non perfetto è uscito a vuoto rivediamo dalla moviola di Fabrizio Giannoni ecco il cross sul secondo palo a cercare il numero nove Raffi però Pinelli mamma mia distratto forse o impaurito dal probabile intervento di Raffi che era lì nelle vicinanze quindi 1-1 due golle sicuramente Beffardi in questa partita prima il cross sbilenco di Bencini tramutato in rete adesso il cross di Nicolai tramutato poi in incertezza di Pinelli che ha regalato il pareggio al cuoio Pelli due incertezze 1-1 più classico dei punteggi in questo caso si equilibrano quindi le sorti della sfida e vedremo magari se i due mister Cipolli e Ventolini con qualche cambio sapranno trovare poi il bandolo della matassa e raggiungere il gol del vantaggio Faraoni sulla verticale dove c'è Sanchez cerca di resistere alla carica dei difensori locali c'è un fallo e c'è anche il cartellino giallo puntuale per Faraoni va a chiedere scusa ma insomma fallo è apparso tutto sommato evidente cartellino che ci sta tutto caccia di posizione dunque per Raffaelli è chiaro che con il pareggio tramutato così del cuoio Pelli si possano accendere gli animi ed è normale che sia così adesso prova a venire un avanti ancora Battistoni solito tandem con Montaguti prova il velo Raffi per Mengali c'è un contatto qualche protesta alla tribuna ma si gioca allora contro piedi del San Miniato con il numero 8 Marinari che tenta il lancio Preda di Grasso molto semplice l'intervento del portiere locale Raffaelli per Rossi e via a rilancio lungo ancora a cercare la testa di Raffi o la freschezza di Mengali niente di fatto si riparte ancora una volta con la manovra del San Miniato Faraoni in possesso lì al centro dove c'è Francesconi e c'è Fallo sarà proprio Francesconi che ha ricoverato il pallone ha subito Fallo a far ripartire la manovra del cuoio Pelli ecco il lancio ancora una volta a cercare il numero 9 Raffi attenzione a Mengali c'è un fischio forse fuori gioco fuori gioco di Raffi sì esatto non è riuscito a rientrare pronto per giocare il pallone è partito a posizione irregolare tramutata in tale quando ha partecipato all'azione Pinelli alla battuta 1-1 il risultato lancio lungo per la testa di Pellegrini duella aereo vinto dai difensori poi un rimpallo non premia Paolicchi quindi rimessa laterale affidata alle mani di Pellegrini Bozzi prova ad andare Battistoni fa buona guardia discivolata mette fuori ancora Pellegrini incaricato della battuta lì vicino c'è Bencini sicuramente il migliore dei suoi fino a questo momento Pellegrini cerca Lelli che va al cross la palla entra in aria attenzione deviazione da parte di Marinari la palla si spenge lontana dai pali difesa da Grasso innocuo l'intervento di Marinari che ha cercato di approfittare di questa palla a Campanile a centro aria non ci è riuscito falla adesso sulla progressione di Battistoni chiede scusa il numero 9 Pellegrini si può ripartire subito ancora con Battistoni giocato Nicolai eccolo ancora una volta Nicolai prova a inventarsi qualcosa e allora Raffi difende palla e cerca ancora una volta la sortita di Battistoni che va al cross con sinistro l'intervento Sbilaic attenzione dall'altra parte c'è Montaguti Montaguti c'è un fallo controllo giudicato irregolare quello di Montaguti qualche peppresità ma si riprende il gioco con Pinelli alla battuta vi ricordo che montaggio e riprese sono di Fabrizio Giannoni Teleregione Toscana canale 86 del Digitale Terrestre la vetrina dei dilettanti l'unica e la sola vetrina dei dilettanti in Toscana per fare un bel focus sul calcio dilettantistico della nostra regione Cuoio Pelli s'ha amminiato la sfida 1-1 il risultato stadio comunale Libero Masini in Santa Croce sull'anno torniamo in cronaca gara valevole per la Coppa Italia eccellenza ancora una volta l'azione del Cuoio Pelli che vuole in tutti i modi segnare questo gol Montaguti converso centro col sinistro può calciare respinto ancora una volta palla giocata dentro Rossi Rossi resiste alla carica Rossi prova ad andare il cross stavolta Pinelli e attento chiama la palla la fa sua senza particolari problemi buona comunque l'azione di Montaguti si è mostrato lucido palla giocata corta forse un po' pericolosa Marianelli però ne esce bene palla al piede ancora Bencini si bende streggia a centro del campo manovra affidata a Bozzi che allarga per il numero 2 Pellegri ancora Bencini un'ancata e c'è fallo Bencini poteva partire palla giocata corta attenzione l'è il tiro respinto Capitan Mancini può rilanciare sceglie la giocata corta avanza Paolicchi lì vicino c'è Battistoni ma sceglie Mengali ancora Paolicchi Battistoni Battistoni fronteggiato da Pellegri Battistoni duello fisico e c'è fallo perché ha trattenuto la maglia evidente dalle immagini non l'avete visto evidente il fallo stavolta di Battistoni su Pellegri bisogna cambiare il pallone lo ha allontanato Pinelli evidentemente non era nelle migliori condizioni la sfera e quindi adesso si può riprendere il gioco normalmente con il rilancio dell'estremo difensore del San Mignato duello tra il numero 4 Mancini e il numero 9 Pellegrini contatto giudicato regolare rimessa laterale affidata al numero 3 Battistoni sceglie ancora una volta Paolicchi Battistoni Battistoni prova a fare la progressione un rimpallo lo favorisce e allora ancora una volta in possesso il cuoio Pelli vedi che ti ribatti la palla si perde allora viene davanti ancora una volta il San Mignato con Marinari allarga sulla sinistra dove c'è Sanchez sovrapposizione di Pellegri ma non viene premiato ancora una volta Marinari Marinari per Bozzi cambia tutto dove c'è Faraoni Faraoni punta l'avversario cerca spazio per il cross ancora Bozzi lì vicino per Sanchez controllo difettoso ma poi la palla se la ritrova lì può controllare ancora Sanchez un contatto si gioca palla che poi termina sul fondo tiraccio tentato dal San Mignato Grasso non si è dovuto neanche sporcare i guanti ha osservato la palla spengersi alta sopra la traversa giocata lì vicino ma che rischio attenzione Pellegrini Pellegrini c'è spazio per il cross Pellegrini cross dentro c'è Sanchez e Rossi la palla rimane lì Rossi attento poi alla fine arriva Francesconi che libera l'aria contro Piaida innescato dunque per il Cogliopelli il numero 11 Montaguti può andare col sinistro Montaguti prova sul fondo non di molto buono il sinistro di Montaguti c'era anche la sovrapposizione di un compagno ma ha fatto bene Montaguti a calciare buono il tiro il sinistro ce l'ha meritava sicuramente maggior fortuna questa conclusione mancina rilancio di Pinelli duell'aereo ancora una volta però Rossi in anticipo molto bravo su Sanchez e poi rilancio di Grasso un po' difettoso la palla comunque rimane in campo tenuta da Montaguti però è in possesso del Samminato con Sanchez Faraoni lì vicino c'è Francesconi ancora Sanchez ma arriva Francesconi a liberare attenzione a Mengali adesso uno contro uno Mengali occasione Mengali Mengali fino in fondo Mengali col destro respinto da Pinelli bravissimo in questa circostanza Mengali poteva sicuramente calciare un po' meglio un po' più forte però Pinelli non si è fatto trovare impreparato nella circostanza contropiede a sua volta del Samminato adesso si allungano un po' le squadre duello con Pellegrini Pellegrini destro sinistro ancora sul destro Pellegrini tiro smorzato bravissimo il numero 5 Raffaelli a chiudere Pellegrini che aveva eluso prima l'intervento andando a cercare spazio col sinistro tornato poi sul destro non si è fatto sorprendere Raffaelli che ha smorzato il tiro per favorire l'intervento di Grasso che va a rilancio adesso ancora Francesconi Faraoni Sanchez solite muvenze Sanchez va via Sanchez bravissimo a cercare il numero 10 Bencini ancora una volta Pellegrini da quest'altra parte dove c'è Pellegrini sulla destra si sposta la manovra da destra a sinistra quella del Samminato Bozzi Marinari cerca spazio sopraggiunge Faraoni che potrebbe crossare col sinistro cerca spazio Faraoni invece si ferma va col destro il cross respinto da Rossi molto bravo ancora però l'azione non è finita Campanile innalzato Rossi fa buona guardia di testa e poi Francesconi può liberare e lo fa bene e con puntualità lotta Raffi ma la palla è ancora in possesso il suo ospite con Pellegri lì vicino Cellelli sceglie invece la verticale dove c'è Bozzi fallo fischiato dal signor Labruna fallo su Bozzi calcio di pulizione in favore del Samminato va a sincerarsi delle sue condizioni il signor Labruna della sezione di Ponte d'Era ricordiamo la terna arbitrale il signor Labruna è coadiuvato da Chiesi e Misson della sezione di Prato mentre il direttore di gara è della sezione di Fonte d'Era Bencini e Lelli sul punto di battuta vedremo chi dei due andrà o magari sarà uno schema per giocare la palla corta vediamo un attimo va Bencini lungo col sinistro a cercare il cross è spizzato dentro Sanchez poteva arrivare sull'intervento Grasso attento fatto buona guardia ancora una volta il numero 5 Raffaelli sul Sanchez è una buona idea comunque Bencini adesso scucchiaiata a cercare l'inserimento non c'è nessuno però Grasso va a impossessarsi della sfera sceglie Mancini per rilanciare l'azione Battistoni lancio lungo con il destro a cercare ancora una volta la testa di Raffi c'è un fallo ancora una volta a favore degli ospiti trattenuta un po' troppo evidente quella di Raffi chiede scusa comunque alla Rosa molta correttezza in campo bisogna dirlo e fa sempre piacere sottolinearlo ricomincia dunque dal basso l'azione del San Minato con il numero 5 Marianelli lancio lungo a cercare Sanchez con la testa spizza alla ricerca di Pellegrini la palla non passa la Rosa graziato perché Raffi era in agguato ma c'era troppa distanza Pinelli rischia tantissimo con il rilancio San Minato ancora una volta in difficoltà sulle mareggiate del cuoio Pelli che prova a mettere pressione agli ospiti Francesconi è lui che mette ordine e prova un lancio lungo mette giù Paolicchi Paolicchi prova a convergere verso il centro con il destro conclusione respinta tiro forse troppo pretenzioso la distanza era considerevole magari si poteva cercare uno scambio al centro per poi andare a canciare successivamente non è stato di questo avviso chiaramente Paolicchi che ha tentato fortuna dalla distanza non ha impattato bene la sfera complice magari anche un po' di stanchezza sappiamo che la preparazione e comunque la temperatura elevata non aiuta i giocatori contro fallo e quindi rimessa laterale affidata al San Minato in frazione commessa dal numero 3 Battistoni c'è un cambio entra il numero 17 Gambini cambio del signor Cipolle la Bruna però non comanda il cambio evidentemente ancora non è stato chiamato dall'assistente la palla esce adesso si adesso si fa quindi entra Gambini a lasciare il campo il numero 9 Raffi che esce camminando magari non soddisfatto della sua prova comunque a mio modestissimo avviso non ha sfigurato ha lottato lì in difesa con Marianelli la rosa sportellata su sportellata adesso un po' di freschezza per cercare il 2-1 serviva il saluto tra Raffi e Gambini che subentra eccolo qua numero 17 classe 99 sicuramente Raffi nelle prossime partite cercherà miglior fortuna in zona gol sappiamo che l'attaccante quando non segna ha una sorta di spada di Damocle sulla testa che finché non non viene sfatata la settimana si lavora sempre e ancora più duro è questo il bello del calcio direttantistico tra lavoro ed impegni bisogna sempre comunque allenarsi con tanta dedizione ancora Francesconi col sinistro stavolta attento Sanchez e recupera il pallone Bencini Sanchez lì vicino non viene servito si sceglie Faraoni e poi Marinari con il destro centrale geometra geometra ma anche incontrista centrappista completo è cresciuto molto nella ripresa eccolo ancora una volta in possesso palla come dicevamo poco anzi palla giocata al centro dove c'è Raffelli ancora una volta il numero 7 Nicolai bene la prova del cuoio Pelli salta alto Gambino posizione giudicata regolare quella di Mengali Rossi si torna indietro palla in verticale Mengali non ci può arrivare perché è in anticipo Marianelli rimessa laterale in favore del cuoio Pelli che prova a spingere prova a pressare prova a trovare questo benedetto gol del vantaggio con i Pelli che si era ritrovato sotto nella prima frazione di giochi con il gol realizzato da Bencini poi l'autorete di Pinelli l'hanno riportati sul pareggio palla giocata al centro dove c'è Montaguti c'è lì vicino Rossi scivola ma riesce comunque a giocare il pallone la palla però è per Lelli che subisce l'evidente fallo da parte del numero 7 Nicolai che ha trattenuto la maglia e quindi si riparte con il Samminiato che torna sulla destra dove c'è Pellegri lì vicino Lelli ancora una volta lo scambio con Pellegri Marianelli Faraoni 1-2 con Marianelli la pressione di Mengali non è efficace Sanchez Marinari Faraoni e ancora una volta Sanchez Marinari lancio lungo a cercare Faraoni fa buona guardia la difesa del cuoio Pelli con il numero 5 Raffaelli anche lui buona prova resistito soprattutto a Pellegrini in un'amareggiata offensiva dove il numero 9 ospite sembrava potesse battere a rete invece Raffaelli gli ha detto no da qui non si passa si riparte con il numero 5 Marianelli che prova il lancio a cercare Sanchez che mette giù egregiamente con il petto Bencini Pellegrini e poi Gambino Gambini scusate rilancia trova la deviazione e Rossi guadagna così la rimessa laterale effettuata attenzione ancora al break al centro campo con Mengali in posizione regolare fuori aria Mengali doppio passo col sinistro cerca spazio c'era l'amareggiata offensiva Battistoni può ancora mettere oidele Battistoni Battistoni destro di Battistoni in due tempi la parata di Pinelli c'era lì in agguato anche Paolicchi che si era inserito benissimo per suggerire il passaggio a Mengali ha scelto invece di allargare per Battistoni comunque buona l'azione del cuoio Pelli che ha fatto un break al centro capo nel recupero palla del numero 7 Nicolai poi però non è riuscito a concretizzare questo errore in manovra del San Miniato si sa che nel calcio chi riesce a sfruttare meglio l'errore dell'altro vince faccia sinistra del campo Sanchez che si è abbassato molto per ricevere questo pallone la sovrapposizione è di Faroni prova in lancio impallato da Gambini rimessa laterale in favore del San Miniato Faraoni Lelli e Bozzi subisce falle numero 4 ospite buona la sua progressione a centro campo dopo aver ricevuto palla anche lui cresciuto nel secondo tempo venuto sotto la linea mediana del campo a prendersi di questo pallone e ha guadagnato qualche metro Bencini gioca vicino dove c'è Lelli ancora una volta Bozzi contatto giudicato regolare dal signor Labruna viene avanti ancora Battistoni c'è un uomo a terra Battistoni mette fuori si tratta di Paolicchi se ho visto bene è così c'è il cambio allora proprio subito per Paolicchi probabilmente colpito dai carampi preparazione spesso succede entra al suo posto il numero 13 Benelli ecco qua autorizzato il cambio anche da parte del signor Chiesi quindi due cambi già effettuati per il cuoio Pelli Samminato invece ancora zero sostituzioni rimessa laterale con ogni probabilità il Samminato renderà palla al cuoio Pelli è così applausi comunque dalla tribuna per il gesto di fair play ed è giusto che sia così ci mancherebbe Battistoni palla giocata in avanti e poi indietro Francesconi adesso può guadagnare qualche metro sceglie invece di giocare sul Montaguti sale Rossi un'azione poi sfuma Battistoni Montaguti prova a sfondare Lelli difende Lelli controlla e Lelli se ne libera Bozzi Marinari ancora sulla destra dove c'è Bencini veramente onnipresente Bencini con il prezzemolo Marinari Marinari dentro per Bencini salta l'intervento di un avversario Bencini tutto sinistro Bencini ancora sulla destra dove c'è Bozzi scusate Pellegrini Pellegrini conclusione deviata calcio d'angolo calcio d'angolo ancora una volta in favore del Samminato se ne carica della battuta numero 10 Bencini a favore del momentane vantaggio per gli ospiti si muovono le torri vediamo la scelta di Bencini se di mettere al centro il pallone o di giocarla a corta eventualmente per un compagno ecco il cross primo palo conclusione la palla non va lontana dallo specchio della porta è stato Capitan Marinari ad impattare la sfera ma non ha trovato la porta terzo cambio per il Coiopelli entra il numero 20 Martinelli ed esce con il numero 11 Montaguti buona la sua prova sfortunato in una circostanza dove convergendo dalla destra sul suo mancino ha calciato verso la porta difesa da Pinelli la palla si è spenta di poco alta sopra la traversa vedremo se Martinelli saprà fare meglio rispetto al suo compagno ecco ancora una volta la manovra del Coiopelli non ci può però arrivare stavolta Gambini rimessa rimessa per Faraoni ancora nessun cambio per il San Miniato e per mister Venturini tre cambi invece per Cipolli e il Coiopelli Rossi lancio per Martinelli la palla schizza per Mengali Mengali col destro allunga la palla dove c'è il numero 13 Benelli che guadagna un corner tentato il cross col mancino inquadrato Benelli ed ecco dunque il cross sul primo palo libera la difesa del San Miniato che può tentare una ripartenza eccolo qua allora contropeade del San Miniato Francesconi prova a chiudere non ci riesce la palla giunge a Lelli Lelli guadagna ancora qualche metro Lelli con il destro controlla potrebbe provare anche il tiro sceglie invece il passaggio per un compagno ancora palla dentro a cercare Bencini Bencini che controlla Bencini che tiene palla Bencini che trova poi un compagno rinviene Nicolai ma non riesce a fermare l'azione ancora Bencini in possesso Nicolai prova a fermarlo alla fine gli sradica il pallone da piedi molto bravo sicuramente Nicolai non è semplice togliere palla Bencini non c'è fallo secondo Labruna si gioca ancora assaminato in possesso palla e allora Cuoio Pelli che deve stringere i denti Lelli in possesso palla bella l'apertura di stanno destro per Faraoni che però crossa malissimo chiede scusa al compagno brutto il cross rimessa dal fondo per il Cuoio Pelli 1-1 il risultato tra i padroni di casa del San Miniato una rete per tempo in vantaggio gli ospiti con Bencini raggiunti poi dall'autorete di Pinelli Beffarda dopo un cross di Nicolai diciamo un calcio d'angolo un po' più corto mettiamola così una punizione fischiata dal signor Labruna Battistoni ancora una volta per Benelli c'è calcio di punizione però per il San Miniato già battuto si cerca adesso di guadagnare più tempo possibile Francesconi controlla col petto e si difende da Sanchez rilancia molto bene ci va Mengali ma commette forse fallo è così secondo Labruna calcio di punizione ha battuto Bozzi per Lelli Lelli per Marinari ancora una volta Lelli in possesso palla Bencini si torna indietro prima Pellegri poi Marinari e ancora una volta Pellegri eccolo ancora una volta il numero due in possesso palla la pressione di Nicolai e rimessa laterale per il San Miniato riprese in montaggio vi ricordo di Fabrizio Giannoni telecronaca di Gabriele Calderone tele regione Toscana canale 86 del digitale terrestre la vetrina dei dilettanti cuoio Pelli San Miniato gara di Coppa Italia eccellenza nel post gara ovviamente ci sono le interviste quindi da non perdere assolutamente attenzione però adesso a Bencini che prova a convergere verso il centro Bencini incontenibile Bencini può andare al tiro col sinistro rientra col destro Bencini alla fine riesce a tenere il pallone ma non ha più cono di tiro ed è costretta ad affidarsi ai suoi compagni Lelli arretra di qualche metro lì vicino c'è Marinari ma non viene servito Faraoni torna indietro ancora una volta Lelli cerca spazio Lelli conclusione altissimo il tiro di Lelli velleitaria la conclusione poteva forse cercare la fisicità di Pellegrini magari per qualche sponda chissà inquadrato il portiere locale Grasso che va alla battuta via rilancio 1-1 come vedete in grafica il risultato in questo momento attenzione ancora una volta al numero 17 Gambini ben entrato comunque in campo Gambini elegante nella manovra cerca Martinelli palla girata da tutta altra parte dove c'è Battistoni sull'auto di sinistra può andare a cross Battistoni Nicolai Francesconi Francesconi palla giocata dentro allontanata dalla difesa ospite Raffaelli Mancini Battistoni Prova la progressione Battistoni con il destro si affida ancora una volta a Nicolai Nicolai pensa al tiro per un attimo poi trova il numero 10 Mengali ancora una volta Battistoni che può andare al cross al centro c'è anche Martinelli respinto ancora Battistoni in possesso palla insiste Cuoio Pelli Nicolai Nicolai Battistoni Nicolai Nicolai può andare al tiro con il destro impreciso sicuramente il destro di Nicolai niente di fatto dunque al Masini di Santa Croce sull'anno Faraoni inquadrato del San Mirato pronto alla rimessa eccola effettuata duelle aerei fallo fischiato per Mengali che poi calcia stizzito ma il fischio ci può stare per il fallo su Marianelli classico ponte quello di Mengali che almeno secondo il direttore di gara signor Labruna della sezione di Ponte ha commesso l'inflazione punibile e quindi calcio di punizione affidata ai piedi di Pinelli punteggio ancora inchiodato sul punteggio di 1 a 1 lungo il lancio di Pinelli ancora una volta Marinari prova in qualche modo a trovare Sanchez e ci riesce rinviene Gambini bravissimo a tenere il pallone in campo Rossi e poi ancora una volta Bencini Marinari Pellegrini conclusione da lontano altro tiro altissimo squadre stanche si vede ecco il primo cambio anche per il San Mirato entra il numero 17 Bini esce il numero 3 Faraoni Bini giocatore un po' più offensivo che può fare sì il terzino ma con qualche compito in più in avanti duell'aero tra Marinari e Nicolai lo vince Nicolai ma la rimessa è per Bini a cercare Pellegrini c'è Sanchez adesso in duell'aero con Gambini è bravo Gambini a guadagnarsi il calcio di punizione furbescamente vincendo il duello molto fisico con Sanchez si è in carica della battuta Rossi ecco il lancio di Rossi a cercare ancora una volta il numero 10 Mengali che con la testa cerca Martinelli sfortunato in questa circostanza il cuoio Pelli se la palla fosse passata poteva essere un'ottima occasione Bencini adesso il contrapiede bella il succedimento per Pellegrini sicuramente Bencini il più positivo dei suoi così come Battistone e Mengali sono loro tre che mi hanno impressionato di più nel corso di questa gara fallo adesso su Mengali proteste di Marinari ma il fallo c'è inquadrato il numero 10 locale Mengali Nicolai palla giocata dietro dove c'è Mancini ecco il lancio lungo di Mancini a cercare le amareggiate di Battistoni la palla però scivola sul fondo campo finito altro cambio per il San Minato comandato dal signor Labruna della sezione di Ponte d'Era vediamo chi esce scusate il cambio è per il cuoio Pelli entra il numero 16 Donati ed esce tra gli applausi il numero 10 Mengali sicuramente molto positiva la sua prova è stato uno dei più pericolosi tra i suoi e dunque Donati prende spazio in attacco per cercare di scardinare la difesa del San Minato e trovare il 2-1 San Minato che si vuol difendere e a sua volta in contropiede magari beffare il cuoio Pelli squadre un po' più lunghe un po' più stanche può succedere di tutto in questi frangenti progressione di Marianelli ancora una volta per Marinari Lelli Marinari ecco il lancio di Marinari a cercare ancora una volta Pellegrini esce puntuale Grasso e fa su il pallone Pellegrini aveva forse vinto il duello tutto fisico c'è Mancini in possesso palla pressato da Pellegrini Mancini sbaglia il passaggio ci sta rimessa laterale in favore del San Minato con le mani Pellegrini la rosa Pinelli e Marianelli avanza Marianelli vuol guadagnare spazio per i suoi cambia tutto dove c'è Pellegrini bello lo stop del numero due ospite ancora l'inesauribile Bencini prova ancora una progressione Bencini Pellegrini costretto ad arretrare fa buona guardia la difesa locale ancora una volta la manovra di Lelli Lelli con il destro può ispirare sceglie il passaggio lì vicino dove c'è Marinari ancora una volta Lelli in possesso Marinari Marianelli la rosa prova ad avanzare stavolta lui Lelli Marinari Mainai sceglie ancora una volta di giocare la palla sulla zona destra del campo lì vicino rete di passaggio insaminate per cercare di trovare in verticale lo spazio giusto Lelli aspetta uno scatto di qualcuno ma non c'è movimenti allora manovra che poi si spenge in rimessa laterale squadre lunghe squadre stanche Pellegrini lotta ma non riesce a guadagnare la rimessa laterale oppure un calcio di punizione rimessa affidata alle mani di Battistoni che può giocare lì vicino dove c'è Nicolai Battistoni lancio lungo Martinelli messo giù calcio di punizione fallo commesso dalla rosa Nicolai alla battuta rincorsa breve vediamo dove giocherà il pallone lì vicino ancora in possesso palla sceglie di tenere la palla bassa il cuoio Pelli rimessa laterale ancora Battistoni Nicolai e questo è il tandem ancora Battistoni Battistoni ha spazio per il cross eccolo effettuato Martinelli con la testa la buca attenzione ancora con i capelli in avanti c'è Rossi lì vicino eccolo servito cross dall'altra parte colpo di testa è deviato ma è fuori gioco era Martinelli ad aver impattato il pallone al centro fuori gioco era buono il cross comunque di Rossi ottimo il traversone del numero 2 locale tanto lavoro sporco per Rossi ma si è anche visto qualche volta in fase offensiva sicuramente sufficiente la sua prova si gioca ancora non siamo pronti per il secondo cambio del San Miniato Pinelli dunque alla battuta rilancio duello aereo vinto da Pellegrini che prova a ispirare Sanchez fa buona guarda Raffaele e poi Rossi lancio lungo ancora una volta a cercare Martinelli stringe la palla al petto Pinelli e la gioca lì corta dove c'è la rosa Martinelli la rosa Marianelli battuta ai finali della sfida ancora Marianelli in possesso palla prova a guadagnare qualche metro nessuno a pressarlo allora Bencini in possesso Bencini Nelli cambio gioco a cercare Sanchez Rossi di testa non si fa superare allora Gambini poi tiene la palla e subisce fallo commesso da Marinari qualche scaramuccia esce Sanchez con il numero 7 dentro con il numero 14 Pellegrini omonimo del numero 9 per il Sanminato Grasso alla battuta 1-1 il risultato tra Coiopelli e Sanminato Marianelli respinge e palla liberata dal Sanminato attenzione adesso perché c'è Pellegrini in agguato Pellegrini difende questo pallone per il suo omonimo palla che termina in rimessa laterale interrompe il gioco il signor Labruna qualcosa da dire c'è un giocatore a terra del Sanminato è il numero 11 Lelli quindi necessario un intervento dei massaggiatori ospiti mani in faccia e quindi ghiaccio e acqua santa come si dice in gergo speriamo non sia niente di grave chiaramente per Lelli dolorante a terra si rialza dovrebbe essere tutto ok per il numero 11 ospite geometra di centro campo e adesso quando Lelli abbandonerà il terreno di gioco momentaneamente si potrà riprendere con le ostilità e Pellegrini incaricato a battere la rimessa laterale bisogna attendere qualche secondo ancora 1-1 il risultato come vedete in grafica tra cuoio pelle e Sanminato basso immagini che vi giungono dallo stadio Libero Masini di Santa Croce sull'Arno riprese e montaggio di Fabrizio Giannoni telecronaca di Gabriele Calderon per Tele Regione Toscana canale 86 del digitale terrestre con la vetrina dei dilettanti bravissimo Bencini ancora una volta ad accendere la manovra chiama ancora una volta palla si torna indietro da Marinari lancio lungo per l'inesauribile Pellegrini che non ci arriva e l'arbitro manda tutti sotto la doccia triplece fischio quindi 1-1 tra cuoio pelli e Sanminato ringraziamo Fabrizio Giannoni per le riprese del montaggio e adesso le interviste telecronaca di Gabriele Calderon come vi ho detto poc'anzi vi ringrazio è stata una bella serata grazie di essere stati insieme a noi cuoio pelli 1-1 Sanminato passo 1 interviste una partita di inizio campionato di inizio diciamo stagione due squadre che sono alla ricerca della forma abbiamo visto degli sprazi abbiamo visto degli sprazi di buon gioco e ancora diverse cosette da diverse cosette da sistemare si nota si nota che qualche giocatore è già abbastanza in palla altri sono indietro di condizioni diciamo luci e ombre il risultato è il risultato che ci tiene ampiamente in corsa per il ritorno ci ci proveremo vediamo vediamo se nel frattempo fra dieci giorni saremo saliti un pochettino un pochettino di tono nel momento secondo me migliore perché tutto sommato ritengo che abbiamo fatto un buon primo tempo abbiamo subito una rete una rete strana una rete strana verso il finale verso metà del primo tempo c'è un pochino c'è un pochino condizionato la gara poi a nord del vero abbiamo pareggiato anche noi abbiamo pareggiato su un infortunio del loro portiere quindi partita partita diciamo le due reti sono sono casuali sono casuali peccato per il palo di Francesconi potevamo 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 girarla questa partita specie nel primo tempo i primi dieci minuti in quattro del secondo tempo dopo abbiamo iniziato con le sostituzioni poi si è fatta sentire la stanchezza e insomma l'ultimo quarto d'ora è una partita che non ha detto partita partita classica partita almeno dal mio punto di vista di inizio stagione con chiaramente tante cose da da sistemare tanti equilibri da trovare c'è ancora da da imparare a conoscersi insomma mancano un po' di automatismi e poi manca anche un po' di brillantezza come è giusto che sia però dal mio punto di vista ci sono state più le note positive che quelle negative buon primo tempo dove abbiamo anche a tratti sviluppato un buon gioco con buona personalità anche e secondo un pochino più confusionario poi sopraggiunta la stanchezza poi anche la generandola dei cambi è vero che portano freschezza però portano anche un po' di di confusione fra virgolette tattica comunque ad ogni modo rimango rimango soddisfatto della prestazione dei ragazzi e di di come il lavoro è sembrato una partita d'allenamento sinceramente sono un po' deluso sarà anche il fatto della preparazione però una partita da Parigi da tutte e due le parti non c'è stato niente di che sono molto deluso perché pensavo di essere più avanti e siamo indietro per ora c'è il ritorno anche? sì no ma a parte il risultato però non ho visto il gioco il gioco non ho visto il gioco ma anche loro io guardo i miei però può darsi sai che sono un po' anche appesantiti dalla preparazione che abbiamo fatto e diciamo che è anche la prima volta che si faceva i 90 minuti perché giustamente quando sei in preparazione sei 22 23 ragazzi si è fatta anche l'amichevole che giocano 45 minuti l'ultima è stata un amichevole che si è fatta di 70 minuti però 90 minuti non l'aveva fatti nessuno forse è anche questa cosa qui che si è fatta